Stasera Leonard Saber lancerà SaberSense in tutto il mondo. La sua rete di satelliti personali permetterà a tutti i dispositivi SaberLink di entrare in contatto per comunicare tra di loro e coi loro proprietari. Ok, GeForce, sapete che può fare il SaberSense. Agente Darwin, imposta il profilo missione. Affermativo, Ben. L'FBI indaga da anni sugli studi che Leonard Saber ha fatto sul SaberSense. Sappiamo che va fermato. E va fermato subito. Domande? Ok. La squadra si apposterà davanti al palazzo. Io mi infiltrerò velocemente all'interno dal giardino, qui. Quando sarò nella sala controllo della sala conferenze, Juarez ti collegherai con me e bloccherai il sistema per fermare il lancio del SaberSense. Luster, trova le possibili vie di fuga. Sappiate che Saber sarà circondato dalla sicurezza. La vostra squadra opera sotto copertura, non esistete. Invisibili, invincibili. Distruggeremo il SaberSense! Tutti d'accordo? Squadra pronta? Si va in scena! Ehi! Va dritto, Blaster!